Nel video di oggi mentre ero in spiaggia con la mia sorellina Aurora e la mia migliore amica Serena Noto che un bagnino mi sta fissando tutto il tempo ed è molto inquietante Ma alla fine ho scoperto il perché Guardate tutto il video per scoprire che cosa succede Ma ciao a tutti amori e benvenuti in questo nuovo video Io come sempre vi ricordo di lasciare mi piace, iscrivervi e attivare la campanellina per le notifiche Aurora stai attenta, non andare troppo lontano Va bene sorellana, guarda che bello questo castello di sabbia che ho fatto Wow, ma è fantastopendo Aspetta un attimo, devo prendere il telefono così gli facciamo la bellissima foto Che ne dici? Che strano ragazzi, è da un po' che sto in spiaggia E ho notato che quel bagnino invece di guardare male mi sta fissando Ehi bestie, tutto bene? Non proprio Serena Quel bagnino laggiù non smette di guardarmi e ti giuro che mi sta facendo sentire a disagio e osservata Ma tranquilla, starà solo facendo il suo lavoro Penso a goderti questa splendida giornata di sole piuttosto Spero tu abbia ragione Ma è davvero inquietante, non mi stacca gli occhi di dosso Guarda cosa ho trovato Gergia, è bellissima, vero? Sì, è davvero carina Ma rimani vicino a me, ok? Va bene sorellana Sai Gergia, magari dovresti parlargli Forse è solo un fraintendimento Ti starei impressionando, vedrai Non so Serena Non mi sento a mio agio a parlare con un tizio che mi sta fissando tutto il tempo Non trovi? Preferisco tenerlo d'occhio da lontano E avere la conferma che veramente mi sta guardando Ragazzi lasciate mi piace tra tre secondi Se pensate che quel bagnino sia inquietante e sospettoso Capisco Allora facciamo così Siamo insieme tutto il tempo e lo teniamo d'occhio insieme Così se fa qualcosa che non deve siamo in superiorità numerica Io e te Grazie Serena, meno male che ci sei tu con me Sei proprio la mia bestie Mamma, oggi è passata una bellissima giornata con Aurora e Serena Ma c'è qualcosa che mi ha inquietato tutto il tempo Cos'è successo? Raccontami tutto Praticamente da quando sono arrivata in spiaggia ho notato che il bagnino mi fissava tutto il tempo Georgia sei sicura che non ti eri impressionata? Mamma ti giuro che mi hai seguito con lo sguardo tutto il tempo Mi sentivo troppo osservata Domani andremo in spiaggia insieme e vedremo cosa succede Nel frattempo non ci pensare Che bello, anche domani andiamo al mare Non so mamma, è solo che mi fa venire i brividi Non è normale Lo so tesoro, ma non dobbiamo saltare subito alle conclusioni Vedremo come si comporta domani E se continua così faremo qualcosa Georgia posso dormire con te stanotte? Ho anche io paura di quel bagnino Ma certo piccola dormirei con me Che dici di guardarci un bel cartone animato? Sì, non vedo l'ora Vado a prendere i popcorn Mamma guarda È di nuovo lì e sta guardando verso di noi Va bene, restiamo tranquille, facciamo finta di niente Se continua a comportarsi così parleremo con qualcuno Georgia, posso giocare qui vicino? Non voglio allontanarmi troppo Quello mi fa paura Sì Aurora, resta qui vicino Ti tengo d'occhio io Forse potremmo andare a parlare con lui direttamente Potremmo capire meglio cosa sta succedendo Serena ha ragione Cerchiamo di capire che vuole Mamma, ciao Come va? Ciao ragazze, tutto bene? Sì, tutto bene, grazie Sei un bagnino? Perché ti stai guardando invece di guardare il mare? Esatto, è il mio lavoro Mi assicuro che tutti siano al sicuro Sì, grazie, ma non è quello che ti abbiamo chiesto Potresti spiegare perché continua a guardare verso di noi In special modo verso Georgia? Mi siete impressionate sicuramente? Io stavo solo facendo il mio lavoro Va bene, ma... È stato davvero inquietante Ragazzi, a me sinceramente sembra una scusa Scrivetelo nei commenti se anche voi la pensate come me Sono il migliore nel mio campo Sì, come no Senti, non guardarmi più, per favore Già, già, possiamo andare a giocare adesso? Sì, andiamo Cerca di non pensarlo e divertiti, piccola Aurora Non abbiamo ottenuto niente Si è salvato dicendo che era il suo lavoro Che scusa banale Non trovate ragazzi? L'avete scritto nei commenti? Sta continuando a fissarci Mamma, puoi fare qualcosa? Ora andremo a parlare con un poliziotto Vediamo cosa ci consiglia di fare Scusi, poliziotto Un bagnino sta fissando tutto il tempo mia figlia Cosa possiamo fare? Capisco, gli farò qualche domanda E controllerò la situazione Grazie, signor poliziotto Ora mi sento molto meglio Spero che risolviamo questa situazione Se no, sono costretta a cambiare spiaggia Per colpa di quel tizio Grazie mille Che guardone col bagnino E povera Georgia Per favore, risolvete questa situazione Buongiorno Possiamo parlare un attimo? Certo, poliziotto C'è qualche problema Ho fatto qualcosa di sbagliato per caso? Abbiamo ricevuto delle segnalazioni Riguardo al suo comportamento Può spiegare cosa sta succedendo? Mi hanno segnalato che fissi tutto il tampone Una ragazza invece di fare il tuo lavoro Si sarà impressionata Perché io sono stato qui tutto il tempo a guardare il mare Probabilmente è una ragazzina che vuole attenzioni Va bene, ti tengo d'occhio, sappilo E fai il tuo lavoro come si deve Perché le persone si devono sentire al sicuro E non inquietate Tranquillo come la spiaggia è al sicuro Seh, io vado Mi raccomando, ti tengo d'occhio, sappilo Ho parlato con lui Dice che stava solo facendo il suo lavoro Ma terrò d'occhio alla situazione Sono dato altro di strano Fatemelo sapere subito Quel balordo Ha detto la stessa cosa prima E ha continuato a guardare Grazie mille dell'aiuto, signor poliziotto Purtroppo di questi tempi bisogna stare attenti a tutto Io non la bella signora Posso fare altro? Ma davvero, il poliziotto sta facendo il provolone con mia madre No, la ringrazio Al massimo prendiamo un caffè insieme Ma mamma Boh, vabbè, fa niente Va bene, offrò io sapermatti Ma, ma anche questo Che invece di fare il suo lavoro Ci prova con mia mamma Che ci sta pure Già, già, possiamo andare in acqua Mi piace tanto giocare lì Certo, Aurora Ma stiamo sempre insieme, ok? Va bene, sorrellona Già, già, sono contenta Che alla fine il poliziotto Ha tenuto sotto controllo la situazione Quando è intervenuto Lui ha smesso di guardarti Sì, mamma Ma starò sempre attenta Ora che vado al mare Mamma, posso dormire con te stanotte? Certo, tesoro Dormiremo tutte insieme stanotte Sì, è meglio dormire tutte insieme Che quel tizio mi ha messo un'ansia assurda addosso Mamma, ma perché col bagnino ci fissava? Aurora, non lo sappiamo Purtroppo, ma non ci pensate Che dite se prenoto pizza stasera Per distrarci un po'? Sì, dopo una giornata in spiaggia Ci vuole una bella pizza Già, già, vuoi fare un altro castello di sabbia? Va bene, faccio il castello di sabbia più bello di Roblox Sembra che il bagnino abbia imparato la lezione Forse non era nulla di preoccupante Dopotutto Sì, lo vedo più tranquillo oggi fortunatamente Sì, quel poliziotto gli ha messo paura Oddio che mi ha parlato, si sta avvicinando Ciao, scusa, posso parlarti un attimo? Va bene, ma sbrigati Che già mi hai messo ansia in questi giorni? Volevo scusarmi se ti ho fatto sentire a disagio La verità è che mi piaci E non sapevo come avvicinarmi a te Così mi hai fissata tutto il tempo? Non è un buon modo per fare colpo su qualcuno Anzi, è inquietante Lo so, hai ragione o agito male Vorrei solo una possibilità per conoscerti meglio Oddio, ma non lo so! Ragazzi, secondo voi devo dare una possibilità al bagnino di uscire con me? Fatemelo sapere con un commento Ti giuro che non ti frisserò più e sarò un bravo ragazzo per te Ti farò sapere, ora sto con la mia sorellina e la mia migliore amica Ci penserò stasera e domani ti faccio sapere Va bene, allora ti aspetto domani Già, già, oggi è stata una bella giornata, vero? Sì, allora ha finalmente una giornata normale Ho scoperto cosa voleva quel bagnino inquietante Sono contenta che tutto si sia chiarito Approcciare frissando tutto il tempo Ma che idea del cavolo è? Mi ha fatto venire l'ansia per giorni col tizio Posso dormire con te anche stanotte, Giorgia? Ma certo, piccola Che ne dici se rimaniamo sveglia fino a tardi? Mamma, possiamo? Sì, tanto non dovete andare a scuola Ma mi raccomando di non fare troppo rumore Che io comunque devo dormire Sì, mamma, tranquilla, faremo le brave Ragazzi, mi raccomando Fatemi sapere nei commenti che cosa devo dire a quel bagnino inquietante Comunque, se questo video vi è piaciuto Lasciate un bel mi piace Iscrivetevi Se ancora non lo siete E attivate la campanellina Per non perdervi nessuna notifica dei video Noi ci vediamo al prossimo video Ciao